Capitan Porretto di U.S. Leart, una volta, una volta Che è successo? Questi divini stanno perdendo Eh beh, sono andato 2 a 1 Momenti di panico che Buscemi se l'ha fatto male Adesso però vedo che sta meglio Si, si, si sta giocando Però vedo che sta iniziando male Eh beh, non giochiamo insieme da tanto Quindi ora dobbiamo riprendere diciamo l'abitudine Inizialmente la prima parte è andata bene Perché comunque ci fu l'autogol di Manu E poi i nostri due golli sono stati belle triangolazioni E ora c'è un po' smarriti Anche perché Mirko ancora diciamo non è proprio Dillo che non ci sono io in campo Dillo che non ci sono io in campo Che aspetti? No, facciamo i cambi Ho fatto un ero passaggio Facciamo un mezzo tempo l'uno Però Walter vedo che sta bene Sei ripreso? Si, speriamo Ok, quanto manca alla fine? Non ne ho idea È tempo per vincere Speriamo allora A più tardi, ciao ciao